Siamo curiosissimi, Raul, di conoscere chi vince questa vita statuetta. Io personalmente lo darei a tutti e cinque, e mi complimento con tutte e cinque le candidate. Però ho una, va dato, ed è Elena Sofia Ricci per il film Loro. E' il terzo David di Donatello per Elena Sofia Ricci, che ha ricevuto quattro candidature. Sono felicissimo, Raul consegnalo ufficialmente. Grazie, non ci credo, grazie. Grazie. Ho la salivazione azzerata. Volevo ringraziare la produzione, tutta la Indigo. Adesso non mi posso ricordare i nomi di tutti perché non riesco neanche a parlare. E un grazie a mio marito che mi ha tanto sostenuto, mi ha aiutato a fare il provino, tutto. Un grazie a Tony Servillo che è stato un collega, un compagno di lavoro meraviglioso. Grazie a tutti, a tutti i componenti della troupe, ma soprattutto a chi è riuscita a trasformarmi in un'altra. E qua ci sono tanti candidati, ma un grazie di cuore a una persona che io penso che stasera manchi molto. E te, Paolo Sorrentino. Paolo, grazie. Grazie, Paolo. Grazie di cuore. Io vorrei dedicare questo premio con tutto il cuore alle mie figlie, Emma e Maria, che sono giovani. E io auguro loro di poter fare quello che è successo a me, di poter vivere della loro passione. Figlie mie adorate, scoprite qual è la vostra passione e vi auguro tutto il meglio. Grazie a tutti i giurati. Scusate, dimentica. Grazie a tutti voi che mi avete votato e sostenuto. Grazie davvero, non me l'aspettavo. I fiori per te. Oh, Carlo. Oh, bella. Canta una canzone. Io vorrei estendere questo pensiero che hanno fatto le tue figlie a tutti i giovani, perché possano veramente coltivare la loro passione con grande forza. È una grande fortuna. Tutti i giovani, coltivate la vostra passione e cercate di vivere di quella. Grazie, grazie di cuore. Grazie a tutti. Ci hai emozionato ancora una volta. Grazie. Grazie, Raul. Grazie, Leo Sofiarici. Grazie.